Eh, una parmigiana! Una parmigiana? E sono finite le parmigiana? Cosa è finita? E dai, allora, dammi due cotolette, dai! La cotolette, è finita, la cotolette, l'avevo comunicato! E trattami una braciola! La braciola è finita come le cotolette! No, e che cosa vuoi dare da mangiare alle persone? E convinci a prendere il piatto del giorno! Perché? Abbiamo un piatto del giorno? Sì, è quello di ieri! Allora, dottore, il piatto del giorno!